Ernesto Colichi. Tre tradizioni popolari degli albanesi d'Italia. Vol. 2. Novellistica italo-albanese. Racconti popolari di S. Sofia De Piro, S. Demetrio Corone, Macchia Albanese, S. Cosmo Alb, Baccarizzo Alb, S. Giorgio Alb. Vellimi, Idaite, K. A. N. G. E. Irge, T. Giuseppe Gradilone S. Letescioim me pare paratenien e vellimit. Texo et bat dimisiam e vellimi ne pare. A distanza di qualche anno dal primo volume vede la luce il secondo della sezione Tradizioni popolari degli albanesi d'Italia. Il quale ne è la continuazione e per la materia contenuta e per la sua disposizione e per la metodologia usata nell'inchiesta 6. Per Cacto et per Mbajtia e Materialit te botoar. Esso comprende la novellistica raccolta in altre sei comunità degli albanesi d'Italia nella provincia di Cosenza, tra loro vicine per ubicazione. Si stendono infatti al di qua dei crati una dopo l'altra, per un arco di 32 chilometri, di collina in collina. Ciò che rese loro più facili gli incontri e di conseguenza comuni le vicende storiche e le esperienze umane. Le sei località sono Tradotti in italiano da studenti arbresce, i quali hanno frequentato per più anni i corsi impartiti nell'Istituto di Studi Albanesi dell'Università di Roma e hanno concluso i loro studi con una dissertazione in albanologia. Il libro è, quindi, il risultato di quella attiva e feconda collaborazione fra docenti e allievi, che ha sempre ispirato e caratterizzato l'insegnamento della nostra disciplina. I testi e la corrispondente traduzione in italiano sono stati revisionati e ordinati. A cura dell'Istituto 8. Per se per che punimi di Hüris Gradilon faxen, l'idea in inglese ma volumina par. 6 Gradilone. 1970. F. V. 7 Gradilone. 1970. F. V. 8 Gradilone. 1970. F. V. Nella seguente breve introduzione ci si è limitati a dare rapide informazioni sulle sei comunità. Per ricreare in qualche modo l'ambiente in cui è stata svolta l'inchiesta ed è stato raccolto il materiale novellistico. Sarebbe superfluo ripetere quanto è stato detto con autorevole competenza dal Colichi, nella sua introduzione al primo volume, sulla origine delle comunità arbresce, sulla loro letteratura orale, sulle precedenti raccolte del patrimio popolare. Si rimanda a quelle pagine il lettore che volesse avere una chiara e sicura visione di questi argomenti nove. Sì, i texti in ogni piazza di Hüris of the Limit, l'originale in italiana si è da per Cthimici. Giuseppe Gradilone. Introduzione Giuseppe Gradilone. Irge. Nella dedica della sua grammatica della lingua albanese alla principessa Elena Gica, Dora d'Istria, Giuseppe Derada, figlio del grande poeta Girolamo Derada, definisce le sei comunità di S. Sofia De Piro, S. Demetrio Corone, Macchia A, S. Cosmo A, Baccarizzo A, S. Giorgio A, il cantone albanese che meglio se conserva. L'affermazione, sebbene oggi non possa essere condivisa in pieno da chi ha una buona conoscenza delle comunità albanesi in Italia, sta tuttavia a testimoniare una certa tendenza di presentare come campione di esse proprio questi paesi, che al di qua dei crati sembra si rincorrano l'un l'altro senza interferenze di altri di origine italiana. Infatti da quando la Calabria non è stata più una terra da attraversare di notte o da evitare col battello da Napoli diretto in Sicilia, a conferma basta scorrere il classico e il più noto dei diari di viaggio in Italia, quello di Goethe, ogni visitatore straniero ha identificato le numerose colonie che si stendono. Në kushtimin e gramatikës e ti të gjuës Shqipe për princeshen Elena Gjika, Dora Distria, Gjuseppe Derada, djali i pojti të madhjeronim Derada, i përkufizon gjesht komunitetet e shensofis, shenmitrit, macit, strigarit, bakaricit, buzatit, kantoni shqiptar që eruan më mirë veten. Ky pohim, edhe pse sot me të mund të mosjet plëtsisht dhe akord a i qenje mirë komunitetet shqiptare në Itali, dëshmon një farë prirje e për ti paracitur si kampioni tyre pikërisht këto fshatra, që në këta antë kratit duket si kur ndjekin njëri tjetrin pa ndërhyrje në fshatrave të tjera me origin italiane. Në fakt që kur Kalabria nuk që më një rajon ku duhe kaluar natën ose që duhe më njanuar me anien nga Napoli në Sicili, si prov mjafton të i hedhesh një syditarit klasik dhe më të njohur të udhëtimit në për Itali, ati të gëtes. Qdo vizitori huaj i ka njëtësuar kolonit dhe shumta që shtrien nga Abruko në përmjet Molizes, Puljas, Basilikatës, deri në Kalabri dhe në Sicili me grupin që ka si cender shënmitër koronën. Letë vlenë si shembul dhe i pradvecia. 9 Gradilone, 1970, f. 6. Dall'Abruzzo attraverso i Molise, le Puglie, la Basilicata, fino alla Calabria e alla Sicilia con il gruppo che ha come centro së Demetrio Korone. Valgano come esempio le opere vecchie a Calabria di Norman Douglas, 1915, e L'anima della Calabria di Kazimiera Alberti, 1950. Entrambi dedicano dei capitoli interi a questo nucleo e da essi traggono spunto per giudicare e ammirare tutti gli albanesi d'Italia. P. X. Ciò si spiega col fatto che negli ultimi secoli së Demetrio Korone è stato il centro spirituale e intellettuale degli albanesi d'Italia grazie al secolare Collegio di S. Adriano e Cheinna, questi paesi hanno avuto i natali grandi personalità poetiche, quali, per limitarci a qualche nome Giulio Variboba, Giuseppe Serembe, e soprattutto il grande Girola Moderada. Le sei comunità, come ho già accennato, hanno avuto le stesse vicende storiche. La stessa loro fondazione o ripopolazione di centri esistenti risale ai medesimi avvenimenti. Infatti esse ebbero origine dall'esodo iniziatosi con la morte dell'eroe nazionale Giorgio Castriota Skanderbeg, avvenuta in Alessio nel 1468, quando la gente albanese, stremata dalle sofferenze e dai pericoli della guerra, preferì l'esilio alla sottomissione al cane turco e alla perdita delle avite tradizioni. Dirigendosi nella penisola italica, laddove comuni vincoli di sangue, si ricordi il virgiliano cognata Surbes, Popunusco e Propinquus, e i recenti contatti avuti con il Regno D. Napoli facevano prevedere un ospitale accoglienza, che in realtà non mancò. È opinione comune che di questi profughi alcuni si diressero in Puglia, altri in Calabria sulle coste del Corigli. Calabria e nomen Douglas Seat, 1915, Dialanima della Calabria e Cazzimiera Alberti T., 1950. Të dyja i kushtojnë kapituit të tërë kësaj bërthame dhe marin shkas prejtyre për të gjykuar dhe për të admiruar të gjithë shqiptarët e Italis. Fët që? Kjo gjësh pjegohet se në shekuit të fundit Shën Mitri ka qenë cendra shpirtërore dhe intelektuale e shqiptarve të Italis falë kolegjit shekullor të Shën Adrianit dhe që në këto fshatra kanë lindur personalitetet të rëndësishme të letrave si, për të kufizuar vetëm me ndonje emër, jull bari boba, zef serembe dhe sidomos i madhi jeronim dhe rada. Të gjash komunitetet, si që? Thash më parë, kanë pasur të njëtën përvoj historike. Vetë themelimi i tyre ose ripopulimi i cendrave për egzistuese lidet me të njëtë atë njarje. Në fakt, ato e kanë originin e tyre nga egzodi që filloj me vdekje në Heroid Komtar Gjergj Kastriotis Kënderbeu, në lesh në vitin 1468, kur populli shqiptar, i dërmuar nga vojtjet dhe nga rëzicet e luftës për apëlqy mërgimin dhe jo në nështrimin da i qeni turk dhe humbjene traditave të të parve, duke u drejtuar në gadishullin italian, atje ku lidjet e përbashkta të gjakut. Le të kujtojnë virgjilin kognatas urbes popullos qërë propinques dhe kontaktet e fundit të pasura me mbretërin. E napolit linin që të parashikoj një pritje e mirë që në realitet nuk mungoj. E din të gjithë se disa prej këtyre refugjatve u drejtuan për në pulje të tjerë në kalabri në brigjet e koriljano kalabros, ku për arsyet të mungese së banorve autoritetet vendore nuk është për filmin ardhje në popujve të huaj. Prej këtoj, pas një cendrimi të shkurter plot aventura, për arsyet të malarias dhe për arsyet të pranisse. Ano-kalabro, dove per la scarsitá della popolazione le autoritá locali non disdegnavano l'afflusso di gente straniera, di cui, dopo breve avventurosa dimora, per la malaria e per la presenza del mare che costituiva in quel tempo un costante pericolo, forse anche per motivi sentimentali, la memoria della loro terra, si spinsero verso le colline viciniori. për undicesimo, sorgevano così le nostre sei comunitá. E' chiaro che i profughi, all'inizio, in questa zona risentirono anch'essi le conseguenze della particolare situazione storico-sociale della terra ospitante. Inserendosi tra le strutture feudali del tempo, e' chiaro che contrasti dovevano ineluttabilmente sorgere per questioni religiose, essendo essi dirito greco-bizantino. Ma ben presto si crearono sempre piu' dignitose forme di esistenza, stabilirono i loro obblighi verso i proprietari terrieri sia laici che ecclesiastici con regolari atti giuridici. I capitoli. Di poi i casali furono elevati a comuni, scomparendo ogni distinzione, in concordanza con l'evoluzione della societá e della vita nazionale italiana, il soffio delle nuove idee, che esaltavano il rispetto e la dignità umana, spazzava via pregiudizi e privilegi feudali. E allora gli albanesi d'Italia cominciarono ad avere nell'arte due anime e nella vita politica due patrie. A custodire gelosamente nel cuore la perenne memoria del loro patrimonio spirituale che doveva alimentare l'esplosione rigogliosa dell'apostolato e della poesia di Girola Moderada e ad agire, inserendosi con il loro innato amore per la libertà nel tessuto vivo delle fervide esperienze risorgimentali della patria d'adozione. Oggi le sei comunità sono dei ridenti paesi che, pur nel klima di progresso, Dejti që përbënden ato kohë një rezik të cendrueshëm, ndoshta edhe për shkak sentimental, kujtimia dhe u të tyre, ata u shvendosën drejt kodrinave pran. Fëqëri Lindën kështu gjasht komunitetet tona Öshtë të qartë se refugjatët në filim, në këtë zonë ndjen pasojet e gjendje së veçan historiko-socialet të vendit që për i priste, duke u futur midi strukturave feudale të kohës, është të qartë se duhet të dilnin kontradikta për qështje fetare, duke qenë ata të rritit Greko-Bizantin. Por shumë shpet kryuan forma jetese më dinitoze, caktuan dëtyrimet të tyre karshipranarve të tokave, qoft laik qoft karshikishës në përmjet akteve të regullta juridike, pakteve të vendosura në marveshje. Më vonë grupet e qendrave të banimit në ngritën në nivelin e komunave, duke u shdukur qëtë dalim në përputhje me zhvillimin e shëqëris dhe të jetës komptare italiane, frima e ideve të reja, që ngrinin lartë respektin dhe dignitetin njërzor, hodhi tutje para gjykimet dhe privilegjet feudale. Dhe atëherë, Shqiptare të Italis fylluan të ken në ardhë dy shpirtëra dhe në jetën politike dy adhe, që të ruanin me gjelozi në zemër kujtesën shumë bjeqare të pasurisë të tyre shpirtërore që duhet të ushen të shpërthimin e fëqishëm të veprimtaris dhe të pozisë së jeronim dhe radës dhe të vepronin, duke u futur me dashurin e tyre të lindur për lirin në kuadrin e gjallë të përvojave të zjarta të rilindjes të atvell të rri. Sot gëshëtë komunitetë të janë shatratë l'umë turcër edhe në frimën e përparimit të jetës citetare të krajinës ruan të papreqëra të parë të tyre të prejardjes. Fëcii Della vita civile della regione, conservano intatte le loro impronte d'origine. P. XII. Il rito greco-bizantino nëlla religione, le originali avite tradizioni in ogni manifestazione della vita privata e pubblica, i fulgidi e policroni costumi, espressione di raffinata civiltá, la lingua che suona sempre viva nëlla bocca degli abitanti, la letteratura popolare in prosa e in versi sempre di perenne vitalitá, sono ancora oggi. Nelle sei comunitá, prova del loro secolare attaccamento all'origine e un titolo di merito per la nobile e gloriosa nazione che li ha ospitati. Eliminata la cronaca e le scorie immancabili di assestamento proprie di ogni processo storico vitale, rimane questa luminosa realtà. La loro presenza dopo cinque secoli in queste pittoresche colline calabresi. Riti fetar greco-bizantin Traditat originale të stergjysherve në chto fush të jetës private dhe publike, kostumet të shndritshme dhe shumë ngjyrshe, shpreje e një qyteterimit të sofistikuar. Gjuha që tingullon gjithmon e gjall në gojën e banorove, letersia populore në pros dhe në vargje gjithmon me një gjallërit të përjecme, janë endësot në gjasht komunitetet. Një prof e lidhje së tyre shekulore me originën dhe një merit për kombin fisnik dhe të lavdishem që i ka pritur. Po të lëmë më njën kronikën dhe mbeturinat tipike të sistemimit që nuk mund të mungojnë në chto proces historik plotiet, mbetet kë realitet i shkëlqyër, prania e tyre pas pes shekwish në këto kodrina piktoreske kalabrese. 4. Tradizioni populari degli albanesi d'Italia Vol 3. Novellistica italo-albanese Racconti populari di Greci, katundi in provincia di Avellino e di Barile, Barili in provincia di Potenza, a cura di Martin Kamaj, ne Parateni e ne Vellimit. Premessa, Kamaj-Jep-Mengere per Mbajtien e Vellimit. Questo volume comprende testi orali delle comunità albanesi che si trovano alla periferia dei due grossi nuclei di oasi linguistiche albanesi, situate nelle province di Campobasso e Cosenza. Esso come mole di ricchezza di motivi, non però per quanto riguarda l'invenzione stilistica e particolarità dialettali, non tiene il passo con i due primi volumi della stessa collana. Alla mancanza di testi nelle altre due località albanesi, Maschito e Ginestra, che con Barile compongono anche linguisticamente il gruppo dei cosiddetti paesi albanesi del Vulture, si deve attribuire l'esigua mole di questo volume 10. K-Y imbotim li det me di Y-Vellimit e tiera te botuara paratig. I testi sono stati classificati ed ordinati per la stampa, avendo per modelli i due primi volumi, sotto la cura del professor Ernesto Colichi. Gliene siamo grati undici. Kamaj 1972 FV Njombudiet Kamaj 1972 FV La narrativa popolare albanese è stata da parecchio tempo trascurata anche dagli stessi folcloristi albanesi, così che la predetta tradizione fu interrotta diverse volte forse anche a causa dell'interesse maggiore o, piuttosto, della preferenza accordata dagli studiosi all'indagine e alla raccolta della poesia popolare, di contenuto più eletto e nobile tredici. Kato tri vellime jam botime merendesi, aty është transcriptuar, për mbledhur dhe përkthyre në italisht e piesa në prosve pasuris se krim taris populore të arboresheve të italis. Shkrimet në hyrje të vëllimeve k'a njërënd sitë. Dymbudiet Kamaj 1972 FV Trembudiet Kamaj 1972 FV Në quitton se La prosa popolare albanese cominciò ad essere registrata per la prima volta verso la metà dello scorso secolo, quando Giorg Bonham pubblicò 5 racconti, raccolti alla boba dall'insegnante Apostolis G. Panajotidis, Kamaj 1972 FV. Settimo ottavo E gith facia vi i carëntsi për bibliografine cituar dhe për referimet e sakta për të nëshënimet në front të faces. Shiko e dëshënimet nëmbudiet nëzëtë këtr nëfë fëidzë të mai të xënërënd sinë studimit të strukturës të pralave shibdare. Una rilevante quantità di favole e racconti, specie dall'inizio di questo secolo in poi, furono pubblicati in giornali, oggi non facilmente reperibili, in riviste e calendari, come per esempio in Albania d'Iconica e in calendari della Società Studentesca di Vienna, chiamata DIA. Si tratta spesso di varianti. Importantissime per lo studio strutturale della favola albanese in sé e nei suoi rapporti comparativi, soprattutto nell'area balcanica. Gli editori di favole e racconti burleschi popolari partivano dal principio di non pubblicare narrazioni che avessero lo stesso motivo. Ma siccome essi non avevano una visione esatta di quello che era stato pubblicato prima, per fortuna non possiamo oggi disporre di un repertorio abbastanza ricco di varianti e di motivi analoghi. Oggi prevalgono altri criteri, per cui le varianti, anche se non si danno alla luce, vengono conservate negli archivi degli istituti. Come si suole fare del resto anche all'Istituto di Studi Albanesi di Roma, Camage 1972, F. 9. Ma dhe io veton per paracitine e materiali të botuara të, por edhe si studime me vler në sistemi në progetshem të letra vë scipe. Bibliografia. Camage, Martin. 1972. Premessa. Introduzione. NW racconti popolari di Greci. Catundi in provincia di Avellino e di Barile. Barile in provincia di Potenza. Studi albanesi pubblicati dall'Istituto di Studi Albanesi dell'Universita di Roma sotto la direzione del prof. Ernesto Colichi. Tradizioni popolari degli albanesi d'Italia Vol. 3. Novellistica italo-albanese. Roma, F. 190, F. Vxxx, Gradilone, Giuseppe, 1970. Premessa introduzione. Nei racconti popolari di S. Sofia de Piro, S. Demetrio Corone, Macchia Albanese, S. Cosmo Alb, Vacarizzo Alb, S. Giorgio Alb. Studi albanesi pubblicati dall'Istituto di Studi Albanesi dell'Universita di Roma sotto la direzione del prof. Ernesto Colichi. Tradizioni popolari degli albanesi d'Italia Vol. 2. Novellistica italo-albanese. Roma, F. 446, F. XXX, F. VXX. Colichi, Ernesto, 1966. Introduzione. Nei novellistica italo-albanese. Testi orali raccolti dal prof. Luca Perrone ordinati e tradotti in italiano a cura dell'Istituto di Studi Albanesi della Università di Roma. Studi albanesi pubblicati dall'Istituto di Studi Albanesi dell'Università di Roma sotto la direzione del prof. Ernesto Colichi. Tradizioni popolari degli albanesi d'Italia Vol. I. Firenze, Leo S. Olschi Editore, 1966, F. 25, 601, F. 9-24. Miracco, Elio, 1985. Premessa avvertenza ortografica introduzione. Ne favole fiabe racconti di S. Nicola dell'Alto Carfizzi Pallagorio Marcedusa Andali Caraffavena di Maida Zangarona raccolti, trascritti e tradotti da Elio Miracco. Istituto di Studi Albanesi dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza, letteratura orale degli albanesi d'Italia novellistica, Bolsoni Editore, Roma, F. 368, F. V. 15, Todorov, Svetan, 1986, Critica della Critica un romanzo di apprendistato, I. Naudi, Torino, 1986, F. 198. Kolici Ernesto, 1999, Critica dhe Estetica, Tiran, F. 368. Kolici Ernesto, 2003a, e parabija lettersis gojores hërtu poesia populore, në vej prapes, suzime letrare. Shkrim e kritike, Prishtin, F. 134, 122, parathenia e librit poesia populare albanese. Kolici Ernesto, 2003b, zana fila e një fjalis historike, zhimi znave arbreshe, doke e zakone, Gojthana e kang populore t'italo-shqiptarve, në vej praj gjasht, palci ethnik arbnuar, publicistik, Prishtin, F. 287, 307. Rugova, Ibrahim, 2005, Kritika e arbreshve të italis, në kahe dhe premisa të kritikës letrare shqiptare, 1504, 1983, shtëpia botuese, Fajk, Konica, Prishtin, F. 527, F. 301, 303. Rugova, Ibrahim, 2007, Kritika, Akademia e Shkencave dhe Arteve e Kosovës, Prishtin, F. 596. Rugova, Ibrahim ziha ibubjannihiliriririririririririririririririririririririririririririririririririri ywiljir favourite emisie